Guarda, guarda, guarda. Ehi. Ehi, Elio. Grazie. 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 Vieni qua. Che succede qua? Ma ci sta provando? Elio, hai già coccato? Che ne so. Quanto vorrei essere nei sui panni? Io non vorrei essere nei panni di lei, piuttosto. Ma lo vuole a tutti i casti, eh? Sto. Ha dato un'altra. No, ecco me la stai. Grazie. Grazie. No, patalla persa, però no. No, 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 no. Un toluo. Oh! Tu vienes? Ti vienes? Tu vienes, Anna? Tu vienes après. Ahahahah! 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 Perfetto! Non écoute, un peu. Non écoute, un peu. Non écoute. Non écoute! Un peu. Non écoute, un peu. À la charge de moi, là tu vienes après. Non écoute, non écoute. mais tu veux parler. Grazie a tutti Grazie a tutti